Nessuna traccia dei quattro alpinisti dispersi sul Monte Velino. Anche la giornata di ricerche di oggi si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto. È stata utilizzata la tecnologia Recco con una potente antenna montata su un elicottero con la speranza di poter captare qualche segnale utile, che però non è stato rilevato. E a forme, campo base dei soccorsi, è arrivato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che nel corso della nostra diretta Facebook ha sottolineato come i soccorsi andranno avanti incessantemente, fino a quando non verranno ritrovati quattro alpinisti dispersi. Le ricerche riprenderanno dunque domani con le squadre che saliranno in quota e con le unità cinofile. E sempre a forme, grazie al sostegno della regione Abruzzo, sono stati effettuati tamponi a tutti i soccorritori.